babilon off siamo ritornati in studio oggi parliamo di bellezza e in quest'ultimo segmento di babilon ci soffermiamo un po di più sul concetto di bellezza nel mondo dell'arte abbiamo chiuso la prima parte di babilon di quest'oggi chiedendo quali sono le donne dell'arte che rappresentano al massimo la bellezza mi viene da pensare alla venere di botticelli la bellezza per eccellenza la bellezza femminile per eccellenza gli uomini più belli nel mondo dell'arte vittorio de bonis la venere di botticelli e donna al cento per cento bella al cento per cento bella iconica affascinante terribilmente evocativa alla giulia roberts perché ha un volto molto singolare e da subito quasi icona autentica di bellezza riconosciuta come un modello fondamentale una sorta di creazione in parte ideale astratta in parte autentica e fascinosissima certo da subito venne vissuta come un'icona come si dice un'icona femminile l'icona della bellezza ma non è l'unica nell'arte abbiamo conosciuto tante altre donne rappresentative del concetto di bellezza la venere di botticelli ha raggiunto il massimo del successo insomma ma ce ne sono molte altre bene abbiamo in realtà anche in attese abbiamo una delle donne più belle autoconsapevoli coscienti che guarda con vellutata sensuale femminilità con magnifici occhi verdi e sopracciglia ala di gabbiano e la cosiddetta erroneamente schiava turca di parmigianino bellissima straordinaria prima del 1532 prima ancora c'è cicilia gallerani la dama dell'ermellino una ragazza di 16 anni dominativa dominatrice straordinaria che non guarda in macchina ma avvolge lo sguardo a destra e cattura per questa sua autocoscienza è una ragazza giovanissima amante dell'uomo più potente del mondo cioè il ludovico il moro ma non soggiocata non schiava non bambola ma determinata come leonardo vedeva la figura femminile dominatrice nuova e protagonista di un nuovo mondo ma non sono donne famose come la venere di botticelli vittorio la venere ha raggiunto il top della notorietà le altre donne che hai citato poc'anzi sono donne si belle rappresentative della bellezza femminile ma non famose quanto la venere quest'ultimo modello mi sembra un modello che rappresenta molto la donna contemporanea una donna forte determinata che fa da sola ma sono modelli non tanto noti quanto la venere ecco è vero possono apparentemente essere meno iconici ma pensiamo anche a donne ritratte da altre donne pensiamo a artemisia gentileschi che continua a ritrarre se stessa il suo corpo imperfetto ma orgogliosamente ostentato come vergine come musa come santa cecilia come straordinaria eroina vincente e lei ha il coraggio di mostrare il suo corpo imperfetto perché morbido perché volutuoso non sottile non photoshopato come si dice adesso e un'altra straordinaria che io amo follemente è tamara dell'empisca che fa donne vincenti feline determinate nuove le dee della bell'epoca la monnalisa sì assolutamente un altro grande esempio conosciuto in tutto il mondo molto chiacchierato molto chiacchierato ancora non sappiamo se sia monnalisa gerardini del giocondo che sia pacifica brandani l'amante di giuliano de medici duca di nemura chiunque la sia non soltanto la donna ma il fatto che sieda in uno straordinario sfondo di rocce e di acque più ancora che essere una donna riconoscibile e la natura personificata però sono bellezze diverse ecco dalla venere di botticelli alla monnalisa vediamo dei lineamenti diversi un viso diverso capelli diversi a dimostrazione del fatto che il concetto di bellezza è cambiato nel tempo e che l'arte ha rispecchiato i cambiamenti che noi raccontiamo oggi siamo arrivati ai limiti del paranoico lo abbiamo raccontato con il chirurgo estetico all'inizio della trasmissione e forse l'arte un domani racconterà queste donne del 2020 2022 insomma della della nostra epoca donne moderne molto ritoccate molto rifatte molto attente all'estetica uomini belli dell'arte certo uomini belli allora un bello iconico brutto perché ferito in battaglia ma straordinario è federico montefeltro ritratto da piero della francesca nel solo rato sinistro con il naso scavato da un colpo di lancia da giostra che gli porta via l'occhio destro li si fa sempre rappresentare a sinistra è uno dei personaggi iconici piero della francesca lo rappresenta in celebre me opere e poi francesco primo d'este ritratto da velasquez straordinario e poi il ritratto anche da bernini e poi i personaggi i rari uomini di egon scile naturalmente straordinario pittore della secessione viennese e poi bellissimi e iconici il pastello magnifico di giuseppe verdi fatto da boldini con il cilindro con il fiocchettone al collo affascinante bello un pastello straordinario schizzato in breve noi pensiamo sempre una bellezza moliebre femminile quella maschile anche riesce a dare il meglio di sé in artisti atipici anche egon scile anche gustav clint dicevano non mi interessa ritrarre un uomo sono sedotto dalla bellezza della femminilità però quando fanno degli uomini li fanno con uno sguardo diverso più attento e con sguardi che frugano l'anima e cercano il rapporto diretto con l'osservatore ma sì assolutamente sono comunque modelli femminili che rispecchiano i cambiamenti del tempo anche da un punto di vista estetico i capelli per esempio delle donne i ruoli sociali che le donne gli uomini hanno ricoperto nel tempo e poi la tecnica utilizzata dagli artisti quindi abbiamo la bellezza femminile dipinta e invece abbiamo ritratti di uomini e di donne rappresentati attraverso la scultura certo certo più donne paradossalmente e perché un grande tema dall'antichità ellenistico romana dalla venere di milo alla vendere dell'esquilino che probabilmente un ritratto di cleopatra una bellissima venere di 16 anni adolescente una delle gemme dei musei capitolini e abbiamo corpi spettacolari e bellezze e sempre più anche la statuaria cerca di rappresentare una mitologia eterna è come se la carne mortale bellissima ma labile di una donna sia eternata nella pietra per antonomasia indistruttibile e folgorante come il marmo è assolutamente pensavo anche la pietà di michelangelo per esempio che è un'altra opera molto molto rappresentativa e rispetto alle tecniche artistiche utilizzate quindi la pittura la scultura il marmo per rappresentare appunto questi personaggi il risultato è un po sempre quello forse la scultura non perdona il marmo non perdona rispetto ad un dipinto ma non lo so se è giusto allora diciamo una tecnica particolare nel dipinto e nella statuaria in terracotta puoi aggiungere nel marmo una volta che hai tolto difficilmente puoi aggiungere anzi non puoi aggiungere ma mi colpisce molto e lodo la tua scelta la pietà di michelangelo in cui quella vergine è per la prima volta giovanissima mesta dolcissima bella e michelangelo firma il nastro di seta che attraversa il seno della vergine è un volto molto particolare probabilmente i volti più belli di donna michelangelesca sono lei la pietà e poi un'opera poco nota magnifica che fu l'unica opera che abbandonò l'italia a michelangelo ancora vivo la madonna di bruges fatta per dei raffinati banchieri fiamminghi anche lì il volto di lei è dolce melanconico e completamente diverso dalle modalità tradizionali ma sì e comunque l'arte ecco ci avvicina come abbiamo detto all'inizio della trasmissione all'autenticità alla bellezza naturale delle persone femminile maschile il tema il grande tema è che ci siamo allontanati dall'arte vittorio de bonis oggi i social ci hanno resi più surreali che reali purtroppo i risultati sono quelli che stiamo raccontando tant'è vero che molti di noi tantissimi non so se anche sarà il tuo caso hanno un avatar no che è l'adattamento che vorrebbero di sé l'opera artistica di sé il proprio alter ego sì è vero che comunque ci rappresenta in parte risponde alle caratteristiche estetiche il naso la bocca l'abbigliamento insomma il modello è più o meno quello la nostra italia da nord a sud è piena di opere d'arte di sculture dipinti opere da ammirare vedere femminili maschili insomma è ricca di bellezza ma quanto viene valorizzata quanto spazio viene dato all'arte oggi vittorio e che cosa bisognerebbe fare allora diciamo che dopo la pandemia e dopo il periodo drammatico del lockdown sempre più le persone hanno scoperto il puro piacere dell'arte della bellezza e della potremmo dire così visione diretta di quello che per lungo tempo trincerati in casa sembrava per noi una sorta di miraggio poter finalmente uscire e ammirare la bellezza noi abbiamo sempre un'immagine anche della bellezza italiana ora gli uffizi parliamo sempre della toscana giustamente io mi permetto anche roma certo roma però pensiamo anche ad altro pensiamo ad esempio a quella straordinaria scoperta che è ormai non più fragrante però sempre magnifica di quelle straordinarie figure maschili i colossi di monte prama trovati in sardegna questi straordinari eroi dai grandi occhi concentrici il che dimostra che anche la magnifica terra di sardegna ha capolavori straordinari non sappiamo ancora probabilmente non sardi forse fenici un mondo in cui anche un'isola che noi amiamo molto spesso per le bellezze paesaggistiche a capolavori da riscoprire ebbene probabilmente il lockdown ci ha risvegliato a amare e a ricercare l'arte la proteggiamo bene allora diciamo che l'italia fa quello che può certo è vero diciamo che l'italia il più incredibile nucleo di detective dell'arte i cosiddetti carabinieri con cui ho il privilegio di collaborare del tutela patrimonio culturale il primo corpo che recupera opere d'arte che ha una file sterminato e di opere sottratte dal mercato naturalmente parallelo che alimenta con la mafia naturalmente il commercio clandestino dunque molto facciamo da parte di straordinari e raffinati esperti dovremmo sempre più diffondere amore per la bellezza che non è soltanto farsi un selfie davanti alle colonne di selinunte o davanti al tempio di segesta ma capirlo anche sapere che c'è che possiamo trovarlo da qualche parte prima citavamo la pietà di michelangelo e altre opere che comunque roma accoglie contiene la capitale ne è ricca di opere noi citiamo spesso firenze ma credo che girando insomma per per l'italia ce ne sono un po ovunque il fatto è che non ne siamo consapevoli poi c'è stato questo momento questo grande exploit legato alla ferragne che ha visitato gli uffizi di cui tutti hanno parlato quindi forse l'arte a un certo punto è diventato un tema di cui bisognava occuparsi anche commerciale anche infastidito i grandi intellettuali grandi studiosi i grandi critici d'arte perché insomma secondo alcuni l'arte solo appannaggio no di pochi eletti se la ferragne riesce a portare persone agli uffizi ben venga perché ormai il mondo è orientato anche a testimonial ma c'erano testimonial anche nel passato e quando agosto va a mirare la tomba di alessandro magno e fa epoca perché un imperatore va a vedere un uomo del passato che aveva segnato un'epoca è inutile storcere il naso e fare i superbiosi se una protagonista del web se una un personaggio autentico conduce i giovani a scoprire l'arte va benissimo va bene è vero aiuta e può farci ritornare a quel concetto di bellezza che abbiamo perduto forse oggi più che parlare di ricerca spasmodica di bellezza dovremmo parlare di una rieducazione alla bellezza e l'arte ci può rieducare ci può far ritornare alla vera bellezza delle cose delle persone però insomma mi rendo conto che il discorso è un po troppo romantico è un bel discorso romantico e filosofico è molto bello in realtà rieducare in un mondo di brutalità di orrori di follia lo vediamo naturalmente tra guerre tragiche brutali e tutto quello che accade rieducarci alla bellezza è forse veramente la via migliore rieducarci alla alla grande bellezza è veramente quello un po come nel film in cui il nostro che jepp gambardella che un uomo potremmo dire che tutto ha vissuto però rimane incantato ancora davanti alla vera bellezza che è un potere perentorio diceva nel retratto di dorian gray uno dei protagonisti parlando con dorian gray gli dice lei non deve spiegare la bellezza non ha bisogno di essere spiegata è così perentorio l'impatto di ciò che è davvero bello che apre gli occhi e si spiega da solo eh sì la scuola ci ha educati per quello che ha potuto fare alla bellezza e all'arte ma io credo che non sia stato sufficiente per nessuno di noi come anche la musica la stessa storia tutti quanti a scuola abbiamo imparato a suonare uno strumento e poi ci siamo persi il problema vale anche con l'arte forse abbiamo oggi il compito e il dovere di recuperare un rapporto perduto che ci può riconciliare anche con i nostri territori che ne sono ricchi e appunto questo patrimonio queste risorse vanno protette e valorizzate sempre di più sempre di più il mondo ne è pieno d'arte all'estero la situazione è diversa rispetto al nostro paese vittorio e adesso abbiamo l'europa e poi abbiamo il resto del mondo in italia siamo più o meno consapevoli della nostra situazione altrove cosa succede altrove la cosa che dice ogni persona che viaggia anche in maniera molto banale quel poco che hanno viene incredibilmente valorizzato noi non siamo così intelligenti lo stiamo lentamente diventando io sono sempre rimasto colpito da uno dei più bei acquedotti romani fatti naturalmente in terra francese le pomme du gare sul torrente gardon e francesi hanno organizzato un'incredibile esperienza uno straordinario parcheggio un cammino la visione un piccolo museo e hanno saputo valorizzare una cosa che noi abbiamo fatto scherziamo noi romani dell'impero gli altri riescono forse perché hanno di meno come diciamo sempre dovremmo avere la stessa intelligenza imprenditoriale rispetto all'arte rispetto all'arte sì noi abbiamo un'intelligenza diversa o forse siamo presi da altre questioni che ci distraggono e ci allontanano poi dalla dalla vera bellezza dalla vera autenticità molte opere ce le hanno rubate si dice vittorio è vero le hanno rubate davvero o abbiamo fatto in modo che le portassero via abbiamo spesso fatto quindi che causa del suo mal certo ricordiamo sempre che la gioconda è stata legittimamente acquistata da francesco primo di francia dalle sorelle di francesco melzi in realtà ho sbagliato dalle sorelle di giangiacomo caprotti daureno detto sala i uno degli allievi di leonardo che ha in dono la gioconda e le sorelle quando lui viene ucciso essendo un poco di buono la venderanno dunque quelle opere quell'opera è legittimamente all'ufra altro discorso quando napoleone porta via le opere dall'italia canova tenterà di recuperare quanto più possibile ma molte sono lì noi siamo quelli che non abbiamo nulla di sottratto degli altri però molte opere venivano liberamente vendute nel settecento nell'ottocento sul mercato antiquario dobbiamo valorizzare e dobbiamo educare alla bellezza io però ho buone speranze si addirittura nuove generazioni si 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 ecco perché anche una chiara ferragni è così un esempio importante sì perché loro forse riescono ad allontanarsi da vecchi schemi secondo cui l'arte deve essere raccontata solo se si hanno determinate competenze il digitale ha un pochino allontanato è vero da vecchi schemi retro che non fanno bene a nessuno sì da un modo come si dice passatista accademico e ma come ben sappiamo nella società liquida si rischia di sapere tutto e non sapere niente quindi magari il rischio che i giovani si possano conoscere l'arte ma non in profondità magari potranno impararla ma potranno impararla con la solita superficialità con cui si fanno tutte le cose però potranno impararla se si insegna in maniera diversa non accademica faccio un esempio come battuta ma senza voler essere autoreferenziale quando vuoi spiegare caravaggio e la sua straordinaria attenzione al dato reale io in genere dico il caravaggio è il primo che si fa i selfie caravaggio si ritrae costantemente nelle sue opere come hitchcock nei suoi film perché a testa di essere il tramite tra la scena del passato il martirio la sofferenza il presente cercare di utilizzare un linguaggio anti accademico che non sia riduttivo ma che pure arrivi alle menti di ragazzi che non sono più abituati a leggere guerra e pace o un lungo trattato d'arte ma che sono abituati a una lettura più immediata abituiamoci anche noi svecchiamoci cerchiamo di dare un'arte magari anche in pillole immediate senza togliere la profondità ma se vogliamo educare le cosiddette nuovissime generazioni la via è soltanto quella è sì è una speranza mi sembra che c'è una speranza per il futuro insomma grazie vittorio per questo approfondimento leggero però interessante curioso legato al mondo dell'arte e al concetto di bellezza grazie per averci seguiti babylon per questa sera termina qui noi ci ritroviamo presto vittorio grazie mille buonanotte buonanotte